Poste Italiane ipotizza tagli per 60 unità, 50 addetti al recapito e circa 10 capi squadra, rendendo probabile che le lavorazioni interne di potenza siano demandate a Bari. A dichiararlo è il consigliere regionale del PDL Mario Venezia, che chiede l'intervento del governatore De Filippo. Il consigliere del PDL ipotizza, ribadendo le segnalazioni di tagli dell'UGL, che se venisse ridotto ancora il servizio di recapito, si rischia che nei piccoli centri la consegna passi da 5 giorni a settimana ad una o due volte. Al governatore della regione, conclude il consigliere, consiglia di attivarsi nel tamponare tali incresciosi episodi. Dello stesso avviso anche l'altro consigliere del PDL Gianni Rosa, che riprendendo anch'esso la denuncia dell'UGL, aggiunge che bisogna far capire alla direzione lucana e nazionale di poste italiane che non si può sbilire l'organizzazione lucana della società. Data la conformazione della Basilicata Continua Rosa, è necessario al contrario un potenziamento del personale e un'organizzazione più complessa ed efficiente.